Ciao amici di Taliato Games, buongiorno, giovedì 16 maggio, server già aperti di Football 2024, fra pochissimo andremo a vedere le novità di oggi. Prima però vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 16 in diretta su Simpli Radio con il TG Tech, anche oggi un bellissimo regalo, gli auricolari True Wireless Creative Zen Air Plus. Mi raccomando non perdete l'occasione, sapete faccio sempre il tifo per voi follower di Taliato Games, non me ne vogliono gli amici di Simpli Radio ma tifo per la mia parte, non mancate per non mancare all'appuntamento, se magari non conoscete ancora il tutto chiedetemi pure nei commenti, ma centinaia e centinaia di voi partecipano tutte le settimane. Comunque iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto così vi arrivano tutte le notifiche anche della zona community, anche degli short e se siete già iscritti o se vi dovete iscrivervi attivate anche la campanella appunto per ricevere le notifiche, perché se siete iscritti la campanella è spenta non ricevete le notifiche. Sapete anche che il video del giovedì è quello in cui vi chiedo uno sforzo, un boost di sforzo per mettere like al video, anche settimana scorsa oltre 300 like, grazie a tutti. Ancora abbiamo superato il record annuale di 495 del 2024, io vi chiedo sempre di dare questo piccolo sostegno gratuito con un like e superare quota 500, ma è dura superare quota 500. Sapete che potete supportare il canale facendo i vostri acquisti su Amazon, non direttamente, direttamente non ci arriva nulla. Passando per il link di affiliazione presente all'inizio della descrizione del video e nel commento fissato in alto, se non vi piace Amazon nessun problema, potete abbonarvi al canale, la quota più bassa è davvero minima, ma se volete supportarci in maniera costante ogni mese lo potete fare anche in questo modo. Adesso premiamo X, A, B e C perché di oggi le novità non mancano, le ho intravisto un attimo per vedere l'apertura dei server sulla versione PC Microsoft e adesso andiamo qui su PC Steam a vedere le novità di oggi. In primis, eccole qua, ci sono i Big Time Roma, Smalling, Pellegrini, Abram e i Epic J-League, Stoichkov e Kawagugi. Vi faccio vedere il video? Sì, un attimo vi faccio vedere il video. Eccoli qui, tre giocatori della Roma, Abram ritornato da poco finalmente in campo dopo un lunghissimo infortunio. Qui c'è Smalling, eccolo qui, da 83, sempre questa particolare grafica di Konami che dice che arriva a 97, in realtà anche senza booster arriverebbe a 95, 96. Comunque, eccolo qui, Smalling, poi Pellegrini per il centrocampo, centrocampo offensivo diciamo. Eccolo qui, ieri abbiamo parlato di Lazio, oggi è di Roma, Pellegrini 25 maggio 2022. Eccolo qui, da 83, anche lui 97. E infine Abram, tornato da poco in campo, eccolo qui. Abram da 83, anche lui questa grafica un po' così, a me non piace molto, però 97, tutte e tre, 97. Poi li andremo a vedere in dettaglio nel gioco. Allora, come era stato un po' anticipato, da oggi fino al 23 maggio c'è questa celebrazione per il lancio da sette anni, non dai football, da PES, diciamo, della versione mobile. Ma i premi vanno a tutti e possiamo vedere che ci sono... Accedi sette volte in ciascun periodo dell'Italia Campagna e otterrai fino a 20 accordi al buio Epic Beckenbauer. Che significa? Che significa che lista di giocatori speciali, ora disponibile una lista di giocatori speciali, 50 carte, un Beckenbauer in versione epica e tre giocatori in evidenza. Usi gli accordi al buio guadagnati con la campagna, ingaggia talenti straordinari. Quindi non è sicuro di beccare Beckenbauer, però 50 carte e tre giocatori in evidenza. Poi ci sono complete per ricevere fino a 48 accordi al buio, ma anche 5 accordi al buio Epic Beckenbauer, ma anche sopra... vabbè, è un po'... adesso cercheremo di capire tutto. Comunque, gli obiettivi della campagna, evento tour speciale, Spanish Clubs, English Clubs, Italian Clubs, evento sfida speciale, Flexible. Questo è un evento IAC con la possibilità di impostare i livelli di abilità avversari più adatto alle tue complicità. Completa le sfide di ricevere non solo premi principali, ma anche premi livello basati sul livello di abilità avversario selezionato. Completa tutte le sfide e tini fino a 40.000 punti ESP in ciascun periodo, oltre a GP proporzionali. Vabbè, i premi però sono sempre ESP e GP. Evento a tema speciale, 20.000 ESP, un programma aggiuntabilità. C'è anche l'evento cronometrato, pacchetto speciale disponibile, anniversary pack PES 2020 throwback. Nel negozio è ora disponibile un speciale pacchetto celebrativo, contento, una divisa originale, 3 set avatar, alcuni programmi, allenamento. Includo i seguenti oggetti, divisa, eFootball Rouge, set avatar, set avatar, attenzione, Messi regista, Messi team, Messi blackball, 4.000 punti ESP. Adesso andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Però io, si parla di avatar, time attack event, tour event, challenge event, obiettivi di campagna, special login bonus. Lì c'è scritto 21, lì 53, se il bonus, il pull è da 50, lo dovremmo sbloccare tutto. Adesso però andiamo a vedere tutto in dettaglio. Pian piano vediamo tutto perché è tutto un po' all'improvviso. La prima cosa è un po' all'improvviso. E poi vedete un po' tutti gli altri. Purtroppo non c'è più la bella schermata che compareva in PES. Poi andiamo a vedere nel campionato offline le novità. Chiediamo chi sono i giocatori in prestito. In prestito. Allora, Guti 97, Olivera 95, Ojan Sanchet 95, Ansufati 95, Andersen 94, Perez 94, Zaccaria 94, Weda 90, Kane 95, Donna Roma 95, Mahele 93 e basta. Eccoli qua. Andiamo poi a vedere appunto gli eventi di oggi. Eventi, allora, PvP, Team Play Fun e qui siamo sempre all'evento cooperativo fino a domenica e basta. E i premi sono sempre gli stessi, credo, 30.000 GP, 10.000 punti ESP, 20.000 GP, 10.000 GP, eccetera, eccetera. Spanish Clubs. Allora, andiamo nel dettaglio, entriamo pure. Così. Nel dubbio scegliamo Barcellona. Allora, andiamo a vedere qui nel dettaglio ci sono 23 giocatori, ma non dovete usare per forza quelli del Barcellona, potete utilizzare di qualsiasi squadra spagnola. Includi 23 giocatori delle seguenti squadre, quindi tutti i giocatori dei campionati spagnoli. I premi sono 10.000 punti ESP per 2, 1 aggiuntabilità per 1. Basta. Stop. Questi sono online, ragazzi, eh. Il Japanese Clubs. Entriamo anche qui. Prendiamo i Kashima Antlers. Anche qui. Giocatori in prestito. Condizione dell'evento tutti i giocatori delle squadre giapponesi. E qui i premi saranno 50 monete d'oro, 1 aggiuntabilità, 2 aggiuntabilità. E questo lo abbiamo visto. Contro EA. Spanish Clubs. Evento Tour. Entriamo. Allora, qui non c'è da scegliere squadra, ma possiamo utilizzare la nostra squadra. Puoi ricevere punti bonus aggiungendo le seguenti squadre al tuo schema di gioco. Quindi sono tutte le squadre dei campionati spagnoli. Premi 30.000 GP, 30.000 GP, 20.000 punti ESP e basta. Il Flexi Ball. Allora, andiamo un po' a vedere nel dettaglio. Questo è un evento di agola possibilità di impostare di livello abilità più adatto. Quindi, 10.000 punti ESP per 2 è il principale. Qui, invece, è una questione di GP. Quindi, diciamo, più aumentati il livello e più aumentano i GP. L'idea è buona, però fosse stato con le monete d'oro, probabilmente sarebbe stato molto molto più interessante. Mettiamo professionista, ma non so neppure se riuscirò a farlo questo evento. E qui vediamo un po'. Nessuna condizione. Il Flexi Ball lo potete giocare con la squadra che volete. Torna il Bid Clock dopo un bel po' di tempo in cui non era presente. Qui, va bene, potete giocare con la squadra che volete. Dettagli. Premi sfida entro un minuto, tra un minuto. Anche qui i premi sono in GP. Sfida ex. Ah, questi, medaglia d'oro, premio medaglia, aggiuntabilità, i B&M, ricompensa classifica. E va bene. È carino, ma secondo me, se non metti monete d'oro, se non metti qualche accordo al buio, è molto poco interessante. Qui siamo nell'evento tour con squadre, con giocatori giapponesi. C'è il ticket. 30.000 GP, 30.000 GP e un accordo al buio, come al solito per i giocatori della settimana, che tra pochissimo andremo a vedere. Ultime cose. Sì, pass partito conosciamo. Eccoli qua. Gli obiettivi. Settimo anniversario. Vinci partita evento tour. Un accordo al buio, back and bowler. Un accordo al buio, back and bowler. Due accordi al buio, back and bowler. Questo è bello, comunque, che mettono per così. Peccato che ce l'abbia già back and bowler, però non importa. Uno, uno, back and bowler. Tutti i premi legati a giri gratis per il pool back and bowler, che fra un attimo andremo a vedere. È per 20 giorni, quindi per tre settimane andrà avanti questa campagna. Quindi, in teoria, da come dice qui, sembrerebbe che si possa spullare tutto il pool. Andiamo a vedere se c'è qualche novità. No, nei punti di football. Niente da fare, ragazzi. È incredibile. È incredibile che anche questo pool con gli avatar, eccetera, eccetera, non l'abbiano messo con i punti di football. Avrebbe avuto molto più senso. 500 monete per la maglia di football, i 3 set di Messi e dei 40.000 punti esp non li spenda neanche per 50 monete, onestamente. Per me non esiste. Questa era una cosa da dare nei punti di football. Comunque, nessun nuovo pacchetto di allenatore contro attacco. Siamo sempre, continuiamo ad essere discriminati. Noi, le vie laterali, eccetera, eccetera. Solo due allenatori e questo è. Allora, abbiamo visto comunque gli obiettivi. Adesso dobbiamo andare a vedere i pacchetti. Eccoli qua. Allora, contratto. Quindi ogni giorno, ragazzi, loggatevi per avere questi giri di questo pool Back & Bower che andiamo subito a scoprire. Finisce tra 27 giorni. I giri sono 50. E quindi, ragazzi, Back & Bower, se fate tutti gli eventi, se fate i login, eccetera, non ci dovrebbero essere assolutamente problemi a beccare questo Back & Bower che è bustato. Quindi è una leggenda bustata potenzialmente in regalo. 85, 29 livelli di crescita, difesa più 2. Mi sa che questo Back & Bower è pure più forte del mio. Quindi cercheremo di beccarlo a qualsiasi costo. Domenica faremo i giri che riusciremo a fare con i vari eventi. arriva a 98. Ebbè, il mio arriva a 98 in squadra. Quindi diciamo che è un bel regalo se si riesce a prendere. I giocatori in evidenza sono Davis, terzino offensivo. 83 di base. Modric, 82 tra le linee. Ed infine, Rashford, 82 opportunista. Come potete vedere, hanno questa grafica particolare per questa celebrazione dei 7 anni di mobile. Qui ci sono vari giocatori che compongono il pool. 50 giocatori. Abbiamo detto che, rivediamo un attimo, 21 giri dal login settimanale. Rivediamo un attimo, perché è importante questo. 21 giri. Obiettivi, 53 obiettivi. Quindi, sì, questo pool, arriviamo addirittura a 74. Sono 50. Quindi, se uno si mette bene a prendere tutti, Beckenbauer è sicuro. Beckenbauer è sicuro. Allora, andiamo a vedere se c'è altro. Sicuramente ci sono i giocatori alla settimana. Quindi, ragazzi, mettetevi sotto. Se volete questo Beckenbauer, cercate di loggarvi tutti i giorni. Questo è assolutamente chiaro. E poi, anche di sbloccare i vari obiettivi per altri giri di questo pool da 50. Questa è una buona cosa. Io, al solito, non sono né un hater di Konami, come qualcuno scrive che mi lamento sempre, né sono un fanboy di Konami. Questo tipo di campagna, con una leggenda bustata in regalo, con 50 giri, con login, con obiettivi, obiettivi, questa è una cosa fatta bene. E così dovrebbe essere, però, un po' per tutto l'anno, o almeno, almeno una volta al mese. Questa è una buona cosa. Peccato che arrivi a maggio, ma questa è una cosa, secondo la mia opinione, ben fatta. Login, obiettivi, 54 giri, quindi c'è un po' di spazio per non doverli fare proprio tutti, molto, molto bene. Cerchè 54 più 21 giri, quindi è davvero difficile non beccare almeno 50 giri, e poi proprio lo devi trovare alla fine, Beckenbauer, magari uno lo becca al decimo giro. Davvero una buona cosa. Brava Konami, stavolta, per questa campagna di Beckenbauer in regalo, è ben fatta, secondo la mia opinione. Allora, cosa abbiamo di nuovo qua? Abbiamo i giocatori della Roma, qui nessun regalo, se le volete girare, dovete avere un bel po' di monete, perché il pool è da 150 giocatori, Aguar 90, regista creativo, 35 livelli di crescita, queste le sue abilità giocatore, Svilar, portiere offensivo, abilità giocatore queste, 30 livelli di crescita, Bove, giocatore chiave, 35 livelli di crescita, Azmuno, opportunista, 31 livelli di crescita, Mancini, frontale extra, 31 livelli di crescita, Zawleski, 81, onnipresente, CLS, 33 livelli di crescita, Lukaku, rapace d'aria, 31 livelli di crescita, contatto fisico, 86, Dibala, 83, regista creativo, un bel po' di livelli di crescita, ed eccolo qua, Smalling, boostato, sviluppo, 85, 28 livelli di crescita, pilastro difensivo, abilità giocatore un bel po', e poi c'è Pellegrini, tra le linee, 83, boostato, e queste sono le sue abilità giocatore, 36 livelli di crescita, infine, Abraham, Big Time, 5 maggio 2022, eccolo qui, boostato, 85, istinto d'attaccante, 31 livelli di crescita, avete visto dal video, 97, 97, e 97, J League, qui abbiamo invece un pull un pochino più piccolo, da 100 giocatori, non vi faccio vedere i giocatori in evidenza, vi faccio vedere solo le due leggende boostate, portiere di offensivo, Kawaguchi, 83, e Stoichkov, 83, anche lui, attaccante di rientro, istinto d'attaccante, e queste le sue abilità giocatore, arrivano al massimo a 96, e 96, pull da 100 giocatori, infine, i giocatori della settimana, sempre con un giro gratis dal pull giapponese, Zvonarek, giocatore chiave, 90, CLD, velocità, 91, lo vedete, non giocatore particolarmente interessante, ma è da 91, alla prolifica, 93 in velocità, accelerazione, 94, Calafiori, finalmente un po' di Bologna, DC, 92, abilità giocatore, un bel po' di 86, un 85, due 86, un 85, Anthony Lopez, portiere offensivo, 93, Isco, uno dei tre giocatori, ieri avevo detto Dugna, se ho sbagliato, perché era uruguayano, non spagnolo, perdonate, il refuso, controllo palla, 94, possesso stretto, 92, giocatore chiave, perché no, si potrebbe anche provare, peccato per la velocità, Rafa Silva, bustato, opportunista, 95, punta, un bel po' di buoni parametri, con quella accedere di estrazione, 92, lo prendessi, lo proverei, onestamente lo proverei, Berguin, 93, taglio al centro, dribbling 93, velocità, 91, un mare di abilità giocatore, Sorlott, torna Sorlott, però stavolta, non bustato, non è bustato, 93, il suo top, velocità 86, salto 86, contatto fisico 88, colpo di testa 87, e c'ha l'abilità giocatore, 87, decatelare, bustato, parte da, no, arriva a 95, perché questi giocatori sono già pronti, controllo palla, 94, passaggio alla sua terra, 90, dribbling 89, possesso stretto 89, un giocatore niente male, onestamente, lo proverei volentieri, 95, James, 95, anche lui, terzino offensivo, passaggio alto 93, tira giro 90, resistenza 90, e anche lui, è un giocatore, decisamente interessante, che proverei molto, 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 molto volentieri, devo dirvi la verità, Magaiaes, 95, incontrista, buoni parametri, sicuramente, Magaiaes, James, e decatelare, sono tre giocatori, insieme anche Magaiaes, Scarrafa Silva, non così male, come qualcuno, diceva, questo Piotv, era pessimo, ne ho trovati di peggiori, e poi c'è qualche giocatore, un pochino più diverso, dal solito, tipo Decatelare, e James, niente male, ragazzi, la lunga disamita, è terminata, questo è quanto per oggi, io vi do appuntamento, di nuovo, oggi pomeriggio, con il TG Tech, alle 16, ma alle 15, la domanda sarà pubblicata, sulla pagina Facebook, di Creative Italia, se volete ogni spiegazione, basta che chiedete nei commenti, vi do appuntamento, poi, alle 20, per il campionato, si comincia con le classificate, e poi domani mattina, torneremo, con un po' di cose, su eFootball, anche domani mattina, per il momento vi saluto, vi ringrazio l'attenzione, likeate, likeate il video, iscrivetevi al canale, se ancora non lo avete fatto, buona giornata, ciao!